L'ispirazione può essere come una luce nell'oscurità che ci guida verso nuove idee e nuove opportunità. Tuttavia a volte può essere difficile trovarla, soprattutto quando ci sentiamo bloccati o senza idee. Ricorda che l'ispirazione è ovunque intorno a noi, oggi. Basta solo sapere dove cercarla. Prova a guardare oltre il solito, a cercare nuove fonti di ispirazioni, esplorare nuove culture, nuove arti, nuove persone e vedi cosa ti attira. Non avere paura di uscire da quella camera che ti rende sicuro, perché è proprio lì che puoi trovare l'ispirazione più grande. Non avere paura di sbagliare perché ogni errore ti porta un passo più vicino al successo. Ricorda che l'ispirazione è una cosa viva e mutevole, quindi non aspettare che arrivi, vai a cercarla. Non importa quanto possa sembrare difficile, non mollare mai. Continua a cercare e a lottare, perché l'ispirazione è là fuori ad aspettarti. Non dimenticare di prendere il tempo per te, perché spesso l'ispirazione arriva quando ci prendiamo una pausa nelle nostre routine quotidiane. Fai una passeggiata, leggi un libro, fai yoga, medita, ascolta musica, qualunque cosa ti aiuti a rilassarti e a trovare la tua creatività. Non arrenderti, perché l'ispirazione è lì, a pochi passi da te. Prendi il controllo della tua vita e trova il tuo vero potenziale. credi in te stesso e vedrai che tutto è possibile e tutto si aprirà verso nuove opportunità. Credici. Grazie a tutti.